Il risultato di tanti filoni sono stati, ho sentito che l'operazione è stata un grande successo. Grazie alle vostre informazioni, abbiamo avuto 510 i 10 assunti. Abbiamo avuto un'altra parte del tutto dei progetti della linea a salute. Noi abbiamo preso un circo 5 di loro, mi hanno assoluto a piatto. Questo non lo sapevo. Arigato, voi dai maxi, spettore Tafo. No, grazie a lei, grazie. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.